Innanzitutto non vorrei fare polemica con la squadra avversaria perché hanno detto che cerchiamo sempre scuse, questo non è nel nostro stile. Noi abbiamo avuto la palla del 2-0, non l'abbiamo fatta, naturalmente loro hanno rincorso giustamente sempre la partita, poi su un contropiede, una palla lunga, un tap in, Bartolini naturalmente da bravo bomber che è, ha fatto gol e poi penso che non ci siano state azioni né da una parte né dall'altra. Però comunque è un buon pareggio, si può parlare di un buon pareggio contro una squadra di alta classifica, voi da ne ho promossa, possiamo parlare di un buon punto? Ripeto, oggi della squadra avversaria non voglio parlare, voglio parlare della mia squadra dicendo che hanno fatto una partita secondo me importante, abbiamo tanti giovani in campo, hanno fatto una partita importante. Nel girone di ritorno come tutti sanno anche un punto vale doppio, noi veniamo da tre partite, sofferte, una persa, due pareggiate, andiamo avanti, sappiamo che la strada è ancora lunga ma è la strada giusta. Mister Mariotti, di che pareggio parliamo? Un buon pari su un campo comunque non facile oppure potevate fare qualcosa in più? Potevamo fare sicuramente in più, siamo partiti molto male, abbiamo preso gol subito, poi abbiamo cercato di fare la partita fino alla fine, prima di pareggiarle poi di cercare di vincere. Però come detto in un campo non facile dove effettivamente viene fuori anche molto molto l'agonismo e lì noi abbiamo peccato in questo, la mia squadra è un pochino meno fisica della squadra avversaria in questo caso. Poi alla fine c'è scatturito questo pari che sinceramente ci può anche stare ma noi eravamo venuti qua per vincere la partita, non ce la siamo fatta, pazienza. Se vogliamo ambire qualcosa di importante bisogna cercare di vincere le partite e non pensare alle altre, pensare sempre alla partita che andiamo a fare. Qua eravamo venuti per cercare di far bene e di ottenere i tre punti, poi a volte c'è anche l'avversario che non te lo permette, però penso che alla fine qualcosina in più potevamo sicuramente portare a casa. Però ripeto, la squadra ha lottato, ci ha creduto, è andato sotto, rimontare contro una difesa forte come quella del Marino non era facile. Prendiamoci questo punto e prepariamoci bene per la prossima domenica, però quello dove può arrivare questa squadra non lo so, però sinceramente se non dovessimo entrare a questo punto nei play-off mi dispiacerebbe più che altro per i ragazzi più che per me. Bartolini non lo scopriamo quest'anno, sicuramente è un ragazzo che ci ha dato tanto, ma non solo a livello in campo. Poi il gol non è che non è stato facile, è stato bravissimo perché è andato sulla rispinta del portiere, su una conclusione di Veglione, non so in quanti sarebbero andati lì in questa categoria, quindi lui quelle schese doti ce l'ha dentro, però è un ragazzo che ci ha dato molto anche a livello di spogliatoio settimanale, quindi al di là delle qualità, ripeto, non stava oggi a scoprire le qualità di Bartolini, però è uno che ci ha dato tanto a livello anche umano e questo per noi è molto importante anche perché sento tanto i mister che parlano di fuori quota, non fuori quota, mancano tanti giocatori, non dimentichiamolo, noi giochiamo con 9-8 giocatori del settore giovanile, quindi voglio dire siamo anche una squadra che a livello di esperienza un pochino manchiamo, quindi lui ci ha portato quella dose e quella dote di esperienza che a noi in questo momento mancava.